Stanislava Voinarova, per Delizia Accordion dalla Repubblica Ceca, espositori a Cremona Musica 2022. Ci racconti un po' la storia della vostra attività? Allora, la storia delle attività della Fisa Armonica nella nostra città comincia praticamente cento anni fa. Poi comincia la nostra famiglia, perché noi siamo un'azienda familiare, e cominciamo nella produzione delle Fisa Armoniche, la produzione per produzione è pure europeana. Praticamente facciamo tutto della Repubblica Ceca, usiamo i materiali ciechi, i po' italiani, però tutto è fatto in Europa. Facciamo le Fisa Armoniche piano, botone e anche quello tipo stai ricevo di autobus. Ci vuole mostrare un prodotto in particolare della vostra casa? Sì, certo. Il nostro nuovo modello è questo qua. Questa Fisa Armoniche piano, che ha 96 bassi, 4 voci. E la specialità è che qui sono alicombasso. Diciamo che è un modello più buono. Grazie mille e buon lavoro e benvenuti a Cremona. Grazie.